Buongiorno a tutti, sono il dottor Forliti, il direttore della struttura complessa di chirurgia vascolare e endovascolare dell'ospedale di Biella. Grazie alle donazioni fatte da Rotary, la struttura da me diretta ha ricevuto in dotazione questo ecografo palmare che nella pratica comune è risultato molto utile soprattutto per due motivi intanto permette al chirurgo vascolare che esegue le consulenze presso altri reparti o presso il pronto soccorso di associare alla diagnosi clinica una prima valutazione strumentale e questo permette già quindi durante la visita di effettuare una diagnostica di primo livello. Inoltre è risultato anche molto utile nella nella pratica di sala operatoria perché quando si fanno le procedure per cutanee cioè senza dover incidere chirurgicamente i tessuti questo apparecchio ci consente di poter pungere senza grandi rischi le arterie attraverso le quali poi possiamo fare la nostra attività endovascolare cioè il trattamento di patologia per via mini invasiva senza dover incidere appunto i tessuti ma attraverso una puntura dell'arteria